Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Sono Power46 e siamo qui per un nuovo unboxing. Allora, come ogni anno, apriamo il nuovo iPhone, anche se in realtà l'anno scorso non l'ho aperto. Questa volta c'è anche Giorgio, visto che è venuto a Milano per fare un lavoro top secret. Sì, Alvin non aveva un cazzo da fare, ha detto vado a svegliare Giorgio alle 9 del mattino, anche se al treno alle 11, cazzo di merda. Esatto, esatto, lui tra un'ora al treno. Sì, infatti, e ti vedi il cellulare con me. Esatto. Mi hai portato la colazione, sono infatti. Avevi promesso la colazione. Era chiuso? Era tutto chiuso? Era troppo presto lì e sono arrivato. Scusa, sempre scusa. Andiamo al sodo, andiamo al sodo. Vai, in compenso lascio aprire te il... Devo aprirlo io, c'era un taglierino o qualcosa? Un taglierino, no, ha la plastichina che basta tirare. Ma sono intelligenti quelli dell'Apple. È biodegradabile? Sì, è al 100%, ha fatto tutto riciclato. Tutto riciclato? Sì, sì. Ad altri iPhone. Sì, altri iPhone. Non lo posso, lo devi aprire tu almeno, se no mi sento in colpa. Ma almeno il primo tocco, la prima ritata d'olio ce l'ho fatta. Quanto è soddisfacente la scatola come si apre? No, l'hanno messa al contrario. Come ti hanno messo il contello? Sicuro? Una volta non era con lo schermo sopra. Ma perché l'hanno aperto già, no? No, no, ma li mettono così. Ok, va bene. Sicuro? Sì. Vuoi di tutte righe? Che bello. Allora, il colore Space Gray è figo. Dovrebbe vedersi. Ci sono 57 minuti. Dai, togli quel cazzo di pellicola. Allora, togliamo la pellicola. E su che mi innervosisco io a vedere quella pellicola. Calma e silenzio. È acceso. Che bello. Vai, vai, vai. Nel frattempo vado a vedere anche cosa c'è nella confezione, perché quest'anno è cambiata ed hanno lo stesso caricabatterie che c'è nell'iPad Pro. Quello per caricarlo velocemente, giusto? Allora, sì. Perché voi non lo sapete, ma Giorgio continua a caricare il suo iPhone XS Max con il caricabatterie da 500 mAh che più o meno ci mette 15 anni. Non parlo dei tuoi problemi, non lo so, Alvise. Cioè, io l'ho abbandonato là, il cellulare poi si carica. Quello che succede, succede. Spero che il giorno dopo abbia abbastanza batteria. Dentro danno le AirPods? Sì, magari. No, però visto così potrebbe sembrare. Cioè, uno ti ci fa credere, vedi così, fa un po' le AirPods, e poi invece... E poi invece... Ma una domanda, Alvin. Vai. Hai notato solo tu questo bellissimo effetto ottico? Guarda che sembra... Dio un effetto ottico che in verità sia molto più... Più profonda. Sì, sembra... Non si nota questa cosa. Mi sa, da lì dovresti... Faccio da lì così? Sì, credo. Speriamo. Si spera che vada. Non si veda, io faccio pure qua così. È vero, sembra... Cioè, se la guardi da davanti... Un pochino di spiego davanti, così. Si vede... Ti dà proprio l'imp... E infatti, guarda quanto è piccolo, invece. Ma in realtà è alto uguale. Dovrebbe essere alto uguale, ma gli hanno fatto... Sì, gli hanno fatto la piccola conca... Eh? Tiriamo fuori. Gli hanno fatto la piccola conca... Oh, madonna, dai. Te lo giuro, è alto uguale. Non è uguale, Bernardo. È uguale. Ma sì, ma questo qua è un dito. È un... Ma... Dai, mettila a confronto. Eh, non so se si vede. No, ok, dai, effettivamente, anche visto dalla fotocamera, sembra molto, molto più sottile. Ma c'è uno stacco completo, dico, tra il retro e i bordi. È piacevole la sensazione, però, comunque, da tenere in mano. Ma non è coscivoloso come questo, eh? No. Cioè, questo... Vai, vai. Il problema dell'iPhone... No, non è... È vero, è... No, ci sta. Ma in realtà... È molto meglio, è molto meglio. Molto meglio questo qui. Ci sta. Allora, ho... Sì, qual è la cosa? Dimmi. È che il problema principale dell'iPhone è che da quando hanno deciso di passare dall'alluminio al... Come si dice? Al vetro. Non hanno capito il problema principale. Che si rompe. E lo rompi ancora peggio, perché tu, praticamente, con le ditate lo... Lo ungi, praticamente. Prendi il cellulare, boom, e quello parte. Perché è tutto completamente di vetro, tu hai le mani oliose, sei andato a mangiare al Mac, magari. Guarda, oh, è... Appena aperto. Cioè, oh... C'è una patina di olio sopra che manco se vai a... da Rockefeller alle... Nel frattempo andiamo a vedere anche un attimo le cover. Questa non l'apro perché in realtà era del marzone. Ah, davvero? Sì, che si è tirato indietro, non l'ha più preso. No! Sì? Marz a merda. Si è preso da questo video. Ho comprato il telefono, la cover, eccetera, e poi mi fa... No, vabbè, dai, lo prendo più avanti. Ok, vabbè. E io ho preso questa. Che magari ora succede come i vecchi... Che erano i primi iPhone X che si rompevano in due, no? Si rompevano in due? Ah, no. Si splittavano. Era l'X, no. Era l'X? No. Era il no, l'8. L'8, forse. No. Già era l'8, sì. Ok. Perché la cover è rossa se il tuo colore è l'arancione? Perché il colore arancione della cover fa... No, è che fa schifo. E in realtà la product red mi è sempre piaciuto, quindi... Anche se in realtà hanno cambiato il colore, adesso è diventato quasi rosso sbiadito. Leggermente la differenza anche tra queste due. Qua si vede tantissimo. E rispetto a quella dell'iPhone... Non so se si vede dalla fotocamera. Sì, dai, lo vedo io da qua. Ok. Ragazzi, io lo vedo. Se non lo vedete non mi frega un cazzo, fidatevi di me. Fidatevi, sono diverse. Rispetto a quella dell'iPhone 7 Plus, mi pare, è ancora diversa. È più pesante? È più pesante. Allora, può essere... Cosa la batteria? Sì. La batteria dovrebbe durare... Eh, ma c'è la cover... Ah no, anche tu hai la cover. Vabbè, è una cover di pelle, però... Sì, è un pelo più pesante. Siamo lì. Eh, ma si senta, comunque. Ma la sarà la batteria. La batteria quanto ha di autonomia in più? Allora, 5 ore in più dovrebbe averne rispetto all'XS Max. Che non è male, che in verità saranno 2 ore. Però vabbè. Sì, vabbè. Allora, rispetto a questo, che è l'X normale, dovrebbe averne 6 e mezza. Quindi non poco. Cioè, anche che sia un'ora in più effettiva di uso pesante, ci sta. Ultime due domande veloci. Vai. Cambiamenti allo schermo. Allora, io non so niente di tutto questo. Quindi magari questo può interessare a voi che volete sapere questa cosa. Ti posso fare un po' di domande veloci? Vai, vai. Cambiamento allo schermo. Allora, hanno migliorato la qualità dello schermo. Gli hanno dato un nome ancora lunghissimo. È sempre... Stessa risoluzione. No, era OLED, no? No, è sempre OLED. Sempre retina, sempre tutto. Solo che gli hanno dato un nome XDR, dovrebbe essere. Non mi ricordo. Gli hanno dato... Qua devi fare tipo lo spam di XD che compare. Gli hanno dato un nome lunghissimo, mi pare che sia... Ah, Apple, retina, XDR... Non me lo ricordo. XDR. Perché tipo hanno aumentato ancora la gamma dinamica, la luminosità. Dovrebbe essere 1200 al massimo di picco. FPS? Cioè, herzaggio dello schermo. Uguale. Allora... 80? Sì. Posso dare una stronzata? Sì. Forse hanno paura che consumi troppa batteria. Ma l'hanno fatto variabile, anche sull'iPad. Quindi... O anche sull'Apple Watch, che dovrebbe arrivarmi dopo in realtà. Secondo me, su questo iPhone hanno fatto due grandi cagate. Allora, il fatto delle fotocamere quadrate... Cioè, della fotocamera quadrata a me non dà neanche troppo fastidio. Vabbè, quello lì che devi fare ormai è il nuovo trend. Cioè, non è che puoi inventarti quattro fotocamere... La mela al centro, sti cazzi. Ma perché è un problema la mela al centro? Eh, a tanti triggerava la mela al centro, ok? Ma che... Non lo so. Cioè, tu guardi il cellulare così? A me sinceramente fregava... Io ce lo devo guardare qua, questa parte è basso. Fregava relativamente poco. Secondo me hanno fatto due grandi cretinate. L'USB-C. Ah, che non c'è. Che non c'è l'USB-C. Che te l'avevo detto pure io. E lo schermo... E lo schermo almeno a 90 Hz. Ma lo sai perché non c'è l'USB-C? Perché nonostante loro l'abbiano messo sul MacBook Pro... L'hanno messo sul MacBook Pro, sull'iPad, l'hanno messo su tutto? No, però devono fare... Eh, ma noi abbiamo inventato... Noi abbiamo fatto la Lightning, la Lightning è una cosa nostra, quindi la dobbiamo mantenere. No, è che secondo me hanno ancora una marea di cavi in stock che devono venderle. Anche se in realtà... Cioè, potevano farlo almeno sul Pro, per distaccarlo e dargli quella cosa in più. Perché... È presente che ogni anno dopo che esce l'iPhone esce la versione S, R... Eh, l'anno dopo. Sì, l'anno dopo. Lo faranno in quella, metteranno lo schermo a 90 Hz o 120 Hz e via. Speriamo. Un'altra cosa. A livello di... Allora, Apple è diventata molto famosa per l'utilizzo del... Come si dice? Dell'unlock tramite... Il Face ID è più veloce, eh? Sì, 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 eccetera, eccetera. Più veloce. È più veloce e teoricamente si può sbloccare anche da qui. Cioè, non devi per forza fare questa cosa che devi... Non devi sbloccare quello così. Esatto, tipo, tante volte era sulla schivania e devi fare il coglione di fare... Sì, è vero. Di fare questo. Tu vedi uno che sta di nuovo sul treno e ci sei tu che sta di nuovo. Ok, Face ID vediamo se... Eh, poi ti proviamo, provalo subito, va. Eh, tanto va configurato. Inizia. Quanto tempo ci vuole. Un attimo, vero? Parlo io che mi sta nascondendo la faccia tra cappello, occhiali e roba varia. Ok, vabbè, è stato veloce ma in realtà è sempre stato veloce, quindi... Il tuo codice, che ve lo dirò a tutti, il suo codice è 333-666. No, no, 333-4646, anche se si aggiunge un numero in più. L'ha messo uno extra così. Sì, esatto. Questa è un'altra cosa che mi dà fastidio loro, che tutto deve stare nel loro cazzo di ecosistema. Ma in realtà è comodissimo, è comodissimo. No, perché io ho Gmail che uso per tutto perché non posso usare Gmail per usare i loro servizi. Puoi usarla, sì. Puoi creare l'account Apple con, non me la ricordo anch'io. Davvero, non si incazza, no? No. Ah, io pensavo di venissero sparati, mandando un Hitman a casa per ucciderti. Alvise, cosa cazzo convinti? Perché? Ma non è vero. La situazione al tazzo... Ma non è vero. Ma l'occhio vuole anche... Ma non ti accorgi neanche che c'è? Allora, è come se tu stai con una bellissima ragazza, con un culo fantastico, e poi gli fai mettere dei pantaloni XXL che manco tua nonna... Ma non è vero, ma non ti accorgi neanche, sai quante volte... Allora, a me cade dieci volte al giorno il telefono, e sai quante volte... Ma non si è mai rotto? Eeeh... No, Alvin, non gli stai a mettere la bellissima. Certo che gliela metto. Dai, fammi toccare a me. Vai, tocca. Tocca. Boh, cascata. Vabbè, c'è la pellicola. Non ti accorgi... Eh, lo so che non si nota. No, vabbè, devo togliere l'ultima. È una colla. Non è una colla, dai. È una colla. Comunque, è a posto. Cioè, non ti accorgi neanche perché è completa e va sul... Come cazzo si è fatta a sbloccarsi? In che senso? Ce l'avevo in mano, si è sbloccato. Eh, vabbè. Io ora ti posso rubare il telefono. Sì. No, no, lascialo qua. Ma devi sdominare solo per... Ma cos'è la differenza comunque? Eh, perché dipende dalla luce solare. C'è troppa luce, dici. No, dipende dalla luce. Il Truton ti regola la luminosità dello schermo e la... Vai, scuro. Scuro tutta la vita, cioè... Ragazzi, vi prego. Questa è la differenza... Questa è la differenza di iOS 13, che in realtà esce oggi, se non sbaglio. È uscito ieri. Ieri, ieri, ieri. Ieri è uscito per tutti gli altri iPhone. Cioè, regà, tutta la vita è scuro. Che dici, proviamo la fotocamera? Subito, vi facciamo un selfie. Uno slow-fi. Come cazzo si chiama? Che cazzo è? Vai, vai, che cazzo è? Non lo so come funziona. Allora, dovrebbe essere... Allora, facciamo una cosa. Allora, davanti e dietro. Allora, foto normale. Foto grandangolare. Che figo che è il grandangolo. E foto... Guarda che ci vediamo. E foto zoomata. Eh sì. Allora, vista così sullo schermo sembra una bomba. Però poi bisogna vedere. Poi mi fa cagare. Altra cosa, altra cosa. Che hanno modificato. Il ritratto l'hanno migliorato teoricamente, ma non lo scopriamo adesso. Giriamo la fotocamera. Hanno messo che... Adesso se ti fai le foto in verticale... Così? Hai un certo grandangolo, ok? Se lo giri dovrebbe diventare più grandangolare. In realtà no. Aspetta, forse è in foto. Allora... Com'è possibile? Così dovrebbe avere un rapporto. Se lo giri... Vedi? Ah, bello! Si allarga! Esatto. Una foto... E poi così. E poi così. Questa cosa è fighissima. Questa cosa è veramente figa. Finalmente... Questa cosa è veramente comoda. Proviamo il dettaglio della fotocamera. Questa è quella interna. Non è male. Questa è quella frontale. Proviamo lo slowfy. Col fumo. Vai, 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 figo. Ma con quella davanti lo puoi fare? Con quella davanti. È lo slowfy. È perché è il selfie. Esatto. Fa schifo. Vai, proviamo. Io mi immagino ormai questa sarà la funzione Instagram di tutte le ragazzine che si faranno, come hanno fatto nella presentazione, con il phon, che si fanno andare i capelli e le robe varie. Lo farò pure io, lo sai. Metto là. Ok. Mi sto facendo crescere i capelli. Allora. Questa cosa è stafica. Posso scorciarmelo? Assolutamente sì. Comunque, io direi che anche per questo veloce unboxing è più o meno tutto. Grazie a Giorgio che ha perso il treno per registrare questo video al volo. No, dovresti farcela, dai. Che re? Bella questa cosa. Alle 11. Ok, hai esattamente un'ora. Questa cosa che puoi cambiare. Ma aspetta, è figo perché puoi cambiarlo anche mentre stai facendo il video. E questa è una cosa molto interessante, che tu puoi cambiare in questo caso quale lente stai utilizzando anche. È figo, è figo, sì. Cioè, è molto comodo per vloggare. Infatti io vorrei provare a usare questo telefono per vloggare. Sì, ma per vloggare ha anche una funzione in più che secondo me è per chi fa YouTube o comunque chi registra con il cellulare tipo Yaki o faceva i video col telefono. A parte aver messo il 4K a 30 fps anche su quella interna. 30 però. Sì, 30 su quella interna e 60 su quella esterna. Non puoi attivare 1080-60 su quella frontale. Sì che puoi, certo. Io per esempio registrerei 1080-60. Per un discorso anche di comodità per trasferire i file. Hanno abilitato la possibilità di registrare da due fotocamere contemporaneamente che puoi scegliere. Non so se lo sbloccheranno anche per altre fotocamere. Cioè, ti dici che io posso registrare, non so, con la grande angolare. E anche quella normale o quella zoomata magari. E poi ho due file quindi video. Due file video, sì. Con l'audio ovviamente solo. Con l'audio. E adesso non ho, non è ancora chiaro. Adesso che ce l'abbiamo in mano possiamo provare. Beh, ci devi pure fare un pochino di test. Esatto. Ha più microfoni. Quindi magari per una fotocamera... Enorme questo microfono comunque. Ah, per una fotocamera usa un microfono e per una invece ne usa un altro. Ah, comoda cosa. In più hanno fatto un'altra cosa che non è stata detta, non è stata specificata. Ma quando andiamo a registrare un video e zoomiamo su quella persona, il microfono posto nella parte posteriore modifica la sua gamma dinamica e le frequenze per andare a stringere su quella persona. Quindi va a stringere l'angolo su quella persona in modo da catturare a questo. Non so quanto bene possa funzionare, però... Magari potete metterlo a punto. Vabbè, si vedrà questo. Esatto. Quindi, vai. Direi che da Blink già è tutto. Power 46, ragazzi. Soprattutto, allora, iscrivetevi a entrambi i canali perché nelle prossime settimane ci sarà intanto Games Week e ci siamo entrambi. E faremo parecchie cose insieme. Un po' di cose dobbiamo fare, Alvisi, di ricordo. Quindi, iscrivetevi, attivate la notifica per sapere anche i titoli, quelli troll. Perché tu sai che YouTube, se carichi il video con un titolo e fai pubblica direttamente e poi cambi il titolo in quel momento prima di pubblicarlo, eccetera, manda il titolo troll. Cioè? Eh... Non mi capiamo se è già. Io so solo che... Vabbè, io lo farò con questo video, allora. Metterò un titolo troll, tipo, non lo so, e solo chi ha la notifica attiva potrà vedere quel titolo. Poi tutti gli altri non ce ne vedranno l'altro. E poi dopo non ce ne vedranno una cosa normale. Non so cosa non la sapete. Va bene. Quindi... Voglio dire quando esce il suo video. Ma guarda, sono in trama. Ti devi sbrigare. Ci vediamo al prossimo video. Let's get it, boys! Vi ricordo che abbiamo lanciato BlinkMyPC.it, il sito perfetto per trovare il vostro nuovo computer. Sia che cerchiate una configurazione già pronta, sia che vogliate realizzarne una su misura per voi. Trovate il link in descrizione. Ciao! 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 Ciao!